Madonna, questi sono bestie, si stanno vendendo l'Italia, si stanno vendendo l'Italia, si stanno vendendo l'Italia, si stanno vendendo l'Italia, questi si stanno vendendo l'Italia, bastardi, senza un'anima, ma per favore, ma guarda ste bestie, guardatele ste bestie, guardatele, alle banche, ai lobbisti, e ai cittadini niente, una vergogna, una vergogna, una vergogna, questa è l'Italia, una vergogna, siamo in mano ai mafiosi e ai lobbisti, la mafia sta qui dentro, una vergogna.